Mi chiamo Bianca Ciao Bianca, la tua macchina non è sporca oggi? Proprio per niente! Leo, andiamo a fare un tit-mit? Andiamo! Freda, ui! Leo, dov'è la colazione? Non lo so! Eccola sulla tavola! Sulla tavola, guarda! Acqua è! Che cos'è Bianca? Questo giallo! È una nespola! La posso provare! Fammela provare, per favore! Buona! Anche io, Marcella nespola! Buon appetito! Facciamo una frittata a sorriso! Ok! Preparo una frittata molto buona! Con gli occhi? Sì! Chi sorride? Per forza! Arrivo subito! Buongiorno! Mi serve un uovo per la frittata! Per Bianca! Cocode! Ce l'ho! Ecco! Tieni! Grazie mille! Arrivederci! Buongiorno! 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 Preparo una frittata a sorriso per Bianca! Ti do i pomodori, così ci puoi fare la bocca! Come sono belli! Grazie! Arrivederci! Arrivederci! Chi è arrivato? Sono io! Leo! Faccio una frittata a sorriso per Bianca! Ho già l'uovo e i pomodori per fare la bocca! Benissimo! Io ti do le olive per farci gli occhietti! Tieni! Grazie! Li prendo! Grazie mille! Arrivederci! Scarico! Scarico! Olive! Uovo! Pomodori! Mescolo l'uovo nella ciotola! Mescolo! Accedo il fornello! Accendo il fornello! Si sta riscaldando! Devo mettere l'olio nella padella! Metto l'uovo! I pomodori vanno lavati! I pomodori vanno lavati! Devo tagliare i pomodori! Questa sarà la bocca che sorriderà a Bianca! Con le olive facciamo gli occhietti! La frittata è pronta! Spengo il forno! Com'è venuto bene! Com'è venuto bene! Sembra un sole! Ecco gli occhi! E' la bocca! Il sole sorride! Bianca! Sto già arrivando! Oh! Ciao camioncino Leo! Posso aiutarti? Questa frittata è per me! Una frittata sorriso! Bianca! Vuoi il pomodoro? L'oliva o la frittata? Il pomodoro! Capito! Tieni! Oh! Un gatto! Sì! Un gattino nero piccolino! Bianca ha deciso di farmi mangiare! Ma che brava! Anche l'uovo si deve mangiare! Adrian! Taglia un pezzettino per Bianca! Ehi Bianca! Apri la bocca come si deve! Bianca! Per favore! Apri la bocca! Vola l'aeroplano! Stiamo mangiando Leo! Bianca! E' molto buona! Grazie Leo! Di niente Bianca! Finisci di mangiare e andiamo a giocare! Facciamo che ti porto io in macchina! Va bene? D'accordo! Pronto! Ti sei allacciata la cintura? Sì! Spingi il pulsante! Sto bevendo! Grazie Leo! La frittata era molto buona! Ciao ciao! Ciao ciao! Devo andare! Ciao!